Piazze e strade delle grandi città presidiate dalle forze dell'ordine impegnate a far rispettare le norme anti-covid nella notte di San Silvestro. Il Viminale chiede la massima attenzione nell'uso dei botti, evitando l'acquisto di quelli illegali per non gravare sugli ospedali. Ascoltiamo la ministra dell'interno, Lamorgese. Io spero che ci sia un'assenza valutazione dei rischi a cui si può andare incontro se non si ottemprano quelle che sono le prescrizioni che il governo ha dato. Già nel periodo natalizio abbiamo avuto numerosi controlli, ma abbiamo avuto anche poche sanzioni. I cittadini su questo hanno ben compreso la difficoltà del momento. Massima attenzione del Viminale per le feste clandestine. Noi sappiamo che ci sono degli incontri in ville che sono state fissate, anche imbarcazioni. Allora noi su questo faremo dei controlli perché non dobbiamo dimenticare quello che è successo quest'estate con le discoteche aperte. Quindi dobbiamo assolutamente evitare una terza ondata.